Bene, eccoci qua anche oggi con piacere che ospitiamo Maurizio Caverza, collega giornalista, collaboratore del quotidiano La Verità del settimanale Panorama, dopo un'importante esperienza il giornale, qua in veste di scrittore perché questo è il suo libro, Fabula Veneta, Apogeo e la casa editrice, e leggo dalla quarta di copertina chi sono veramente gli scrittori, che vita conducono, sono solitari, socievoli o social, cosa sta loro a cuore? E' un po' insomma quello che mi diverto a chiedere anch'io quando abbiamo degli ospiti scrittori, in questo caso è curioso perché chiedo ad uno scrittore che ha scritto di altri scrittori, ecco qual è il progetto che sta dietro a questo libro? Ma intanto buongiorno a tutti, non c'era un vero e proprio progetto, io sono soprattutto un giornalista, un giornalista che si occupa di cose culturali, non solo, e in quanto giornalista sono una persona curiosa, senza la curiosità non si fa questo mestiere, io mi sono un pochino specializzato negli ultimi anni nelle interviste perché questa mia curiosità è rivolta proprio ad altre persone, queste persone in questo caso sono scrittori, sono scrittori, scrittori veneti, io ho vissuto 25 anni a Milano lavorando in alcuni giornali, tra cui appunto il periodo più lungo al giornale, e quando sono rientrato nelle mie zone, insomma nella mia terra d'origine, ho ripreso confidenza con questa terra, con i luoghi e con la cultura veneta. Gli scrittori sono stati una possibilità, un'opportunità privilegiata per riprendere contatto con le mie radici, per riavvicinarmi alla mia storia, alla tradizione del Veneto, alla terra in cui sono nato e cresciuto. Il libro è fatto di 20 interviste a scrittori del nord-est, a proposito invito tutti a leggere anche il blog del nostro ospite, che è Cave Visioni, devo dire curioso e stimolante, diciamo 20 interviste, alla fine l'idea è che c'è un elemento comune su questa sorta di scena letteraria veneta? Ma c'è un elemento comune agli scrittori di quest'area ed è diciamo in particolare il rapporto con la realtà, cioè sono scrittori tra virgolette sociali, nel senso che ripropongono e sono molto stimolati dall'evoluzione della società, mentre in altri ambienti letterari prevale diciamo una scrittura, una letteratura più narcisistica, più rivolta alla psiche, più introversa o una scrittura che diciamo nel mondo letterario viene definita auto-fiction, cioè lo scrittore che mette in scena se stesso e la propria vita. Qui c'è molto spiccata la relazione con il territorio, con le società, cioè sono scrittori che raccontano i cambiamenti, diciamo la generazione più tra virgolette stagionata, diciamo Ferdinando Camon, Ferruccio Mazzariol, raccontano la fine del mondo contadino. Camon si definisce proprio uno scrittore della crisi del mondo contadino e cita a questo proposito Charles Peggy, uno scrittore francese molto importante, insomma di area, uno scrittore pieno di sorprese, insomma vicino alla cultura cattolica, che dice la fine del mondo contadino è il più grande evento della storia dell'umanità dopo la venuta di Gesù Cristo. Camon cita forza come frase, perché è la fine proprio di un mondo, è la fine di una civiltà, è la fine di un mondo nel quale insomma tutti i punti di riferimento erano chiari. Questa è la generazione più avanti negli anni, poi invece c'è una generazione di mezzo che è rappresentata da Gianfranco Bettin, Francesco Maino, Vitaliano Trevisan, Romolo, Bugaro, Padovano, che invece non ha come retroterra questa formazione nella cultura contadina, ma racconta l'evoluzione del, anche Tiziano Scarpa, mi sono dimenticato di citare, di quella che negli anni 80-90 è stata definita la locomotiva del nord-est, la locomotiva d'Italia. Ecco, è un'evoluzione socio-economica, è una categoria socio-economica che loro raccontano ed è un Veneto ancora in cerca di identità, insomma, in cerca di una nuova fisionomia. Poi c'è una generazione ancora più giovane che è quella rappresentata da Francesco Targhetta, per esempio, che ha raccontato nel suo Vite Potenziali, diciamo, la nascita dell'economia delle start-up. Lui l'ambienta a Marghera e i protagonisti sono un gruppo di ragazzi che creano una start-up nel campo dell'informatica e del marketing. Ecco, sono, come si vede, la linea comune di queste tre generazioni, insomma, che io ho sintetizzato, è questo rapporto con l'evoluzione del territorio, della società nella quale insistono questi scrittori. Se si domanda a loro, se si riconoscono in una comunità letteraria, tutti dicono di no, in gran parte dicono di no, perché ognuno è giustamente geloso della propria specificità, della propria originalità, perché il mestiere dello scrittore è in gran parte un mestiere solitario, di solitudine. Quindi a questa domanda, solitari, socievoli o social, si risponde come? Sono tendenzialmente solitari, perché la vocazione, diciamo, letteraria si esercita in solitudine. Tiziano Scarpa, per citare uno di loro, mi ha detto, io mentre scrivo non faccio leggere una riga neanche a mia moglie, insomma, per dire, però poi lui con altri autori, Francesco Maino, Mauro Kovacic, ha un piccolo cenacolo di confronto, insomma, di conversazione, insomma ogni tanto so che si vedono, Giulio Mozzi, ogni tanto so che si vedono, si incontrano, però così, insomma, per mettere in comune la loro esperienza artistica, se vogliamo chiamarla così, ecco. Sono, diciamo, l'ispirazione e l'esercizio della scrittura, è una cosa assolutamente solitaria, un altro molto solitario, che poi però è molto anche comunitario, quindi sono, nelle sue manifestazioni, è Francesco Permugnian, che è uno scrittore originario del Polesine, ma che ora vive a Desenzano, e che è stato, diciamo, quello che mi ha più incoraggiato, anzi mi ha proprio spinto, insomma, convinto a raccogliere questa antologia di interviste, e lui dice, la letteratura nasce proprio dentro le nostre ossessioni solitarie, insomma, non è un esercizio, non è una cosa che si impara nelle scuole, ma nel confronto con la nostra solitudine. Eppure Ferdinando Camon aveva proposto di far nascere una sorta di associazione degli scrittori? Sì, sì. Partendo proprio da questa esperienza? Sì, sì, sì. Ferdinando Camon si è esposto, scrivendolo sul mattino di Padova, ha scritto una recensione con questa proposta, perché effettivamente alcuni anni fa esisteva un'associazione letteraria veneta, che poi ha diradato i suoi incontri, i suoi ritrovi, e lui l'aveva riproposta dicendo, qua ci sono tanti questi scrittori, io ne conosco qualcuno, non ne conosco molti, e mi piacerebbe invece incontrarli, frequentarli con una certa... Una sorta di cenacolo. Una sorta di cenacolo, insomma. La sua proposta è rimasta un po' a mezz'aria, insomma, diciamo, forse ci si aspettava che anche i giornali raccogliessero la provocazione, i giornali locali, invece, se posso esprimere una... usare una parola un po' forte, sono stati un po' pigri, insomma, perché quando uno scrittore come Camon, che è, diciamo, uno degli ultimi grandissimi che ha la nostra letteratura italiana, si espone una proposta così, insomma, almeno il giornale che l'ha veicolata dovrebbe... ci si aspetta che la rilanci, che la promuova. Si, poi, non lo si può aspettare da quello che almeno tra questi venti è sicuramente il più maturo, insomma, ci vuole un po' di spirito giovane anche. Si, esatto. A prendere al balzo... Al balzo la proposta, la provocazione. Ed essere, insomma, oggettivamente onorati, insomma. Esatto, certo. Di avere questa associazione. Detto ciò, grazie a Maurizio Caverzan. Allora, il libro è questo, Fabula Veneta, incontri con scrittori, editori e poeti, il sottotitolo di approfondimenti è tutto ciò che fa Nord-Est e questo sicuramente è una buona testimonianza, vale a dire, gli scrittori che contribuiscono ad arricchire culturalmente questo territorio. Grazie. Grazie a voi. A lui, al collega Maurizio Caverzan. Il resto lo raccontiamo nelle prossime puntate e ci si vede domani. Buona giornata. A rivederci. A rivederci.